Ecco, non nasconde la mia gioia di avere conosciuto Matteo e Enrica, tutti i momenti che ho avuto di ascoltare, di vedere quello che vivono, con quanta intensità hanno visto questo momento di attesa. Immagina, tra 4 miliardi quasi di femmine, Matteo non ha trovato nulla, Seno Enrica, e viceversa, Dio ha appoggiato su di voi, ascoltate lui e ascoltate anche i suoi angeli, gli amici, voi, i testimoni. Ecco, grazie per lei, vuoi ascoltarci. Grazie a tutti.